La prima prova è praticamente dietro le porte e vorrei sapere proprio da voi che siete maturandi come sta andando. Beh, io sono perfettamente tranquillo, mi sto preparando assiduamente e allo stesso tempo cerco di non esagerare, perché non vorrei, sai, sovraccaricare le mie cellule cerebrali. Signorino Bruce, non può fare tutto all'ultimo minuto! A che punto è la sua tesina? Chiedermi mai più una cosa del genere. Essere sincero, c'è nessuna prova. Manca meno di una settimana, hai studiato qualcosa? Nessuno di noi friggerà patatini. No, perché non me ne frega un cazzo? Uscirò da quella squadra di prima. E a te Ben, come sta andando? Benissimo.